La classifica si è fatta nuovamente delicata per l'Albino Leffe, la sconfitta di Novara per 3-0 di sabato scorso ha ovviamente peggiorato la situazione ai ragazzi di Mondonico, anche se il risultato non deve trarre in inganno. È normale che se uno va a vedere il risultato pensa che Novara ci abbia sul classato, ma se uno vede la partita non è stato così, per come la vedo. È normale che ci resta rammarico di aver fatto una buona partita, ma non l'aveva portata a casa niente. Prossimo impegno contro il Sassuolo, attualmente pari classifica, quota 12 punti, che sembrerebbe la portata della Celeste, appunto sembrerebbe. Mi avrà portata in mano, nel senso che in Serie B il campionato è lungo e ogni squadra ti può creare delle difficoltà, sarà una partita totalmente diversa, dobbiamo stare attenti perché comunque loro vengono da un risultato positivo, però anche noi stiamo bene, quindi poi giochiamo in casa, dobbiamo far fruttare il discorso campo, quindi dobbiamo cercare comunque di portare a casa dei punti. Ma qual è l'ingrediente che ancora manca per poter uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione? Forse ci è mancata un pochettino da parte nostra, magari un po' di cattiveria sotto porta, magari un po' magari di così inesperienza nel risultato V di Modena, per dire qualche punticino in più, magari l'avremmo anche portato a casa. Però ripeto, questo qua ci deve servire per il futuro e per le prossime verità che verranno di non commettere gli stessi errori che abbiamo commesso fino ad adesso. Un albinoleff è sempre più targato Zenoni, visto che anche il fratello gemello Damiano raduce un intervento al ginocchio. Da questa settimana si sta allenando a Verdello, chissà potrebbe essere lui il volto nuovo intronatale, nel frattempo anche Cristian sta trovando la giusta condizione fisica. Pian piano sto recuperando la forma ottimale, l'importante è quello che sto bene fisicamente, poi il resto per dare un aiuto alla squadra, poi il resto con l'aiuto di tutti vedrai che porteremo a casa anche noi le nostre soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.